ciao a tutti dal comendone veneziano siamo su the hunter allora ragazzi oggi siamo ancora sulla mappa dell'altra volta quella con la neve con la nuova andiamo a caccia di orsi e non è facile ma ci voglio provare hanno detto che sono vicini al lago quindi andiamo chiaramente anche tory black è nella lista delle predere catturale buon raga andiamo portiamo con il deodorante che parla studente ragazzi due coglioni obesi arrivo della brutta prestazione in formula 1 porca troia vai ok carichiamo la pistola anche il fucile c'è anche la neve quindi può anche cadere la neve ragazzi chicca indescrivibile boom andiamo a mettere il segnalino muovite ok anzi mettiamolo qua bon perfetto e andiamo andiamo con il dente rincoglionito madonna raga che che sugo un sbrego fiorino gavidea cioè per carità pagherei per avere sempre solo sti problemi però ragazzi cioè doloroso catrota ok andiamo verso il laghetto andiamolo sono la e vediamo insomma chiaramente dobbiamo stare attentissimi perché chiaramente non senti il rugito il suono quello che è insomma e quindi devi vedere solo occhio nudo difficilissimo raga sono le 5 di mattina dai corri leprotto in calore dai muoviti sono gonfio guancia gonfia che palle sono a casa anche da lavoro che palle è una roba indecente io odio stare a casa del lavoro perché ragazzi dobbiamo lavorare attenzione oddio tori ovunque eccola qua ecco tori pam presa tori ovunque tori ovunque tori ovunque tori ovunque ho vinto la scommessa con quell'utente ho trovato tori la 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 quindi cos'è che ho vinto se devi iscrivere con 10.000 utenti è il mio canale hai perso eh eccola la anche la ecco tori mi dispiace ma hai perso ti voglio bene vecchio ciao madonna dopo questo vaneggio di proporzioni obese torniamo alle cose più serie quanto facciamo anche i suoni del cervo e dell'alce però noi dobbiamo andare alla ricerca degli orsi ok allora qua ci sono i laghetti di merda bisogna capire se ci sono anche gli orsi allora è duro occhio nudo eh allora vediamo un po' comendo se troviamo qualche cerchiamo è un tutorial l'abbiamo trovata oddio ah no la mu e l'alce però madonna mi sembrava è un maschio però eh ma questo me lo prendo porca troia che bestia sembrava un orsi questo è quanto grosso eh dio santo è qua vicino ragazzi stiamo attenti questo può essere grosso può essere l'animale da trofeo siamo in un punto un po' bastardo porca mignotta non lo vedo dove minchia è sto figlio di puttana vediamo un attimo cazzo è grosso eh ho sentito il verso il suono sembra bello cicciotto calma è qua eh porca puttana è davanti teoricamente eccolo là eccolo là porca puttana che bestia che sembra una bestia eh eh ma non è questo questa è la femmina puttana porca cosa faccio adesso qua a mio parere ce ne sono due eh eh la caccia è uno sport complicato noi l'abbiamo visto però è una femmina cazzo eccolo là porca puttana cos'è no non andare giù sei e ti ho preso mignottone no non andare giù ho preso l'uomo ho preso l'uomo ho preso l'uomo grande cumendone ce ne erano tre cazzo e ho preso il macio eccolo qua 498 kg maschio corpo bonus fina dorsale penso e si parte alla grande cosa cazzo fai ok me ne avevo preso uno però ecco l'orso che si è scappato in ogni caso perché comunque bella cattura bravo cumendone ecco è impossibile col sparo è scappato via l'orso al 100% infatti non vedo una seeeega ce ne sono altri aspetta un secondo nooo madonna ecco andiamo di qua ragazzi c'è un'altra alce qua ma è scappata non è scappata un cazzo non è scappata eccola la eccola la presa l'ho presa però sullo stomaco speriamo di non perdere le tracce se l'ho presa si si l'ho presa ok di qua eccola qua grande cumendone e due no sincocorpo 349 kg femmina ok buono avevo visto anche delle impronte di orso ma molto molto lontano eh ragazzi faccio un po' fatica però a commentare mi dispiace penso che tra poco chiudo tutto perché pensavo di avere meno difficoltà invece con troppo gonfio solo vediamo mister laghetto se non c'è niente basta comunque abbiamo l'attivo alce maschio alce femmina e zoccolona obesa tori black quindi abbiamo tre catture shigode l'orso è difficile purtroppo dobbiamo avere la fortuna di trovarlo occhio nudo vediamo che impronte sono di alce niente peccato non nevica col video orsetto dove sei orsettino orsettino bello dove cazzo stai o se qua buono se no pazienza per oggi chiudiamo qua la giornata di caccia vediamo un attimo non possiamo avvicinarsi troppo non ci possiamo avvicinare troppo che male niente ragazzi non c'è niente va buono ascolta raga io chiudo qua il video perché faccio proprio fatica a parlare e non ce la fò più comunque è andata bene anche se il comandone è rincoglionito ha preso due alci e la torri black gnocca quindi avvento la scommessa adesso mi aspetti 10.000 iscritti raga un saluto del comandone veneziano ciao